esatte sono appena arrivati due bassi mark bass andiamo ad unboxare siete pronti vai allora questi sono i nuovi gloxy che cosa che hanno di particolare che sono passivi hanno già il battipenna montato corpo tipo precision pick up tipo jets passivi manico bello lucido 5 corde color sunburst andiamo a vedere l'altro basso il numero 2 tra l'altro le custodie sono fighissime guardate che bello abbiamo un altro uguale ma quattro corde vai che bella che lei voi preferite il 4 o il 5 io personalmente il 4 per cui mi tengo questo e voi comprate qual'altro ma prima di sentire come suonano se tappino se tappino di benvenuto fatto andiamo a sentire come suonano e se suonano ponte manico tutto e due bello il manico mi ricorda i fender anni 70 sia come look che come misure andiamo a sentire il 5 e e e e e e e molto convincente anche la quinta corda anche se passivo ci piace molto nuovi mark bass serie glock si 4 e 5 corde passivi devo dire approvati ci piacciono un sacco venite a provarli il prezzo non lo so ancora ma restate sintonizzati se volete un video fatto bene scrivete glock si nei commenti oh yeah